Dall'6 dicembre qui al Museo Arte Tempo ci saranno delle importanti novità. Sì, infatti inauguriamo una nuova sala permanente dedicata all'archivio fotografico Cristilli che fa parte del patrimonio del museo ma che non aveva ancora una collocazione adeguata per la sua valorizzazione. Quindi questo era un po' il sogno del museo che acquisito grazie alla volontà degli eredi di Cesare Cristilli questo cospicuo patrimonio fotografico. Sono migliaia di immagini che raccontano la storia di Clusone, raccontano l'evoluzione della società clusonese ma non solo di Clusone ma anche dei paesi limitrofi, raccontano l'evoluzione dei costumi, gli avvenimenti importanti, tutto quello che ha fatto appunto la storia del nostro paese per tutto un secolo perché lo studio fotografico è stato attivo dall'inizio del Novecento fino agli anni Novanta. Abbiamo approfittato di un bando promosso dalla Fondazione Cariplo, il Comune di Clusone ha partecipato insieme ad altri enti, ad altri comuni e musei della Val Seriana e grazie al finanziamento ottenuto è stato deciso di recuperare un'ala di Palazzo Marino Nibarca che era inagibile diciamo, quindi che è tra l'altro proprio adiacente al museo ma che non era utilizzabile come struttura. Quindi grazie a un importante intervento proprio di tipo conservativo sul palazzo, dunque è stata ricavata questa nuova ala che è stata collegata appunto al museo e dal 6 dicembre in poi, da domani in poi, sarà possibile conoscere appunto la storia di Cesare Cristilli e del suo lavoro, della sua arte. È una sala che racconta appunto la storia dello studio, è una sala dove è possibile vedere proiezioni, appunto vedere proiettate le immagini di questo fondo fotografico e inoltre c'è anche la possibilità attraverso un touchscreen di consultare le foto in modo diciamo autonomo prendendosi anche tutto il tempo per gustarsi le emozioni che queste foto sanno dare e sanno suscitare. Quindi ci sono gli spazi permanenti ma c'è anche qualcosa di temporaneo. Sì, insieme all'ala nuova permanente inauguriamo anche una mostra dedicata sempre a Cesare Cristilli e al suo lavoro e alla storia dell'altopiano per tutto il Novecento. In realtà la mostra durerà sei mesi, quindi fino al 3 maggio, ma sarà scandita poi da una serie di eventi dedicati a grandi e piccini.